Gentili telespettatori, buona giornata. Per quanto riguarda il Covid, il tampone fai da te per far finire la quarantena potrebbe essere lo sblocca Italia, una sorta di rivoluzione. Domani sapremo i dettagli, ma l'Emilia-Romagna, la regione Emilia-Romagna, è pronta e sta per cambiare la procedura dell'autosorveglianza in caso di contatto da Covid. Semplificare, semplificazione. Stefano Bonaccini, il presidente della regione Emilia-Romagna, dice questo. Vogliamo sgravare il lavoro micidiale che devono sopportare le Ausl e le farmacie e vogliamo concentrarci ancora di più sui vaccini. Oltre un milione e duecentomila tamponi fatti ieri a livello nazionale, così rischiamo la paralisi. A Bologna, tra pochi giorni, sarà sufficiente fare un test rapido fai da te e una connessione internet. Con un esito positivo, infatti, a condizione che sia stata fatta la vaccinazione, basterà caricare il risultato sul proprio fascicolo sanitario online e seguire autonomamente le regole per la quarantena e l'isolamento fino al successivo tampone negativizzato, che dovrà essere dichiarato sempre scrivendolo in internet sulla propria cartella. L'autotesting, così si definisce, è anche una prova di fiducia perché il rischio c'è ed è quello dei furbetti che potrebbero far finta di nulla. Il nodo da sciogliere in queste ore è su cui sta lavorando la regione Emilia-Romagna e se questa possibilità potrà essere data sia a quanti hanno già completato il ciclo vaccinale ordinario oppure se verrà riservata a quelli con la dose di richiamo, la terza dose. Mentre chi non è vaccinato dovrà seguire l'iter ordinario. Si tratta di un'alleanza tra cittadini e la sanità pubblica, dice l'assessore regionale in Emilia-Romagna, Raffaele Donini. Gli sforzi sono tesi nella direzione di ridurre quella quota di non vaccinati che mica solo in Emilia-Romagna sta riempiendo ospedali e terapie intensive, dicono dall'Emilia-Romagna. E poi dicono così, aggiungono, lo diciamo noi ma non lo diciamo solo noi, lo dicono i numeri dell'ultimo rapporto settimanale dell'ISS, Istituto Superiore di Sanità, che ricorda nel suo report che il tasso di intubati per Covid è di 26,7 ogni 100.000 abitanti e per non vaccinati è di 0,7 per chi ha fatto tre somministrazioni. In altri termini la possibilità di finire in terapia intensiva per i non vaccinati è 38 volte. E poi dice basta dire anche continuare a diramare notizie false. Ed è pure più elevata nei non vaccinati la probabilità di contrarre una reinfezione, spiega l'ISS nel suo report settimanale. Perché dice che nei soggetti vaccinati con la dose aggiuntiva, ossia la booster, l'efficacia nel prevenire la diagnosi di Covid e i casi di malattia severa sono pari rispettivamente al 68,8 per cento e al 98 per cento. E poi dice che nell'ultima settimana si osserva un aumento dell'incidenza dei contagi in tutte le fasce d'età tra gli 0 e i 19 anni. Infine l'ISS sottolinea un forte ritardo nella notifica dei casi di questa settimana per Calabria, Friuli, Sardegna, Sicilia, Toscana e provincia di Bolzano dovuta a difficoltà tecnico-organizzative e alla forte pressione sui servizi sanitari. Naturalmente il problema qual è? E' quello che con l'autotest fatto a casa e poi caricato in internet stanno pensando bene a quale potrebbero essere le controindicazioni. Quali controindicazioni? Le controindicazioni di truffe, di gente che dichiara il falso. Questa è la preoccupazione. Voi sapete che fatta la legge, trovato l'inganno. E poi l'Italia è famosa per trovare gli inganni alle leggi, no? La zecca garbugli. Pertanto vedremo se questo poi verrà esteso a tutta Italia e sarà un qualcosa di fattibile sempre che il governo poi non impugni la decisione della regione però qui è una regione di sinistra dove c'è il potente Bonaccini di sinistra colui che aveva sconfitto il capitano leghista Ecco, pertanto non è detto che il governo impugni le decisioni di alcune regioni Ecco, diciamo così Pertanto vedremo quello che succederà Intanto i numeri diminuiscono della pandemia Aumentano quelli in ospedale perché voi sapete che i numeri sono indifferita Quello che succede oggi viene Si rispecchia dopo 10-15 giorni Una settimana, 10-15 giorni Se la variante Omicron ha preso il sopravvento da poco Perché i dati del 4 di gennaio parlavano dell'81% di prevalenza della variante Omicron sulle altre Oggi che siamo al 16 di gennaio Probabilmente quell'81% è diventato già il 100% E dato che questa variante è più contagiosa ma meno grave I suoi effetti li cominceremo a vedere Li stiamo già vedendo La diminuzione di alcuni dati Ma gli effetti completi si cominceranno a vedere tra qualche giorno Io vi ringrazio per avermi ascoltato Vi auguro buon proseguimento di giornata Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti C'è anche Teleitalia Seconda Rete Dove ci sono video di notizie, di politica, di fai da te Poi questi video di Teleitalia e Teleitalia Seconda Rete Li trovate dopo qualche ora Pubblicati anche su Facebook In modo che se vi sono interessati Li potete condividere con chi volete Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata Grazie a tutti